Ah, no, è vero, A3? Attenzione, A3, donna per B2, torre A2. Ah, effettivamente sì, la donna è. Clamorosa. Però il punto è che poi dove arrocchiamo noi, comunque? Non ce ne fega niente, abbiamo preso la donna. Qui non può prenderla, no? Signori. No, no, dico, ma lui non lo prende, è B2, no? Lo prende, lo prende, lo prende. No! No! Che f***! Ah, ma se ci tre in tre... Ah, no, no, oddio, ci ha avuto tipo un lampo che pensavo che l'alfiere G7 può capire. Mamma mia, mamma mia, la tattica! È clamoroso. Mamma mia, la tattica! Però dai, ci devi pensare un minimo, se mangiarti B2, cioè è risaputo che B2 non è da due piccoloni. Grazie. Grazie a tutti.